Per acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, Corgasmix sono qui con un nuovo squad builder. Mi avevate chiesto nei commenti nello scorso video di portarvi una squadra con il Silver Ibrahimovic e io vi ho accontentato subito portandovi quello che secondo me è tranquillamente il Silver Ibrahimovic. Flash, dunque direi di cominciare subito. La squadra non so quanto l'ho pagata perché ci sono due IF. Comunque sia non sta tantissimo tranquillamente. Quindi è una squadra molto competitiva ma è diversa dalle solite squadre che trovate in giro con super velocità. È una squadra che non ha grandi doti di velocità ma come vedremo dei giocatori che comunque non sono da meno. Quindi cominciamo subito con il portiere che è il giocatore più scarso della squadra. Purtroppo mi serviva per fare intesa con uno dei due difensori centrali e quindi bisogna un po' accontentarsi. Però comunque sia alcune parate le fa, altre un po' meno. Cioè Fernandez del Porto spagnolo. È un portiere che costa pochissimo ovviamente, un 76. Ha anche comunque delle statistiche di presa, anche volendo tuffo e riflessi accettabili. Anche una buona velocità, un discreto rinvio. Purtroppo ha un piazzamento che non è il massimo e come portiere comunque non è altissimo, un 84. Però vabbè comunque sia ci può anche stare tranquillamente. Poi è una squadra composta da giocatori argento e oro. Il terzino destro è argento e cioè Sarioglu che se non sbaglio l'anno scorso era oro. Che mi è parso un buon terzino, veloce, buon dribbling. Comunque discreti valori di fisico e difesa. Purtroppo ha due stelle piede debole e comunque è alto 1,70. Quindi è abbastanza bassino come giocatore. Magari ecco contro i giganti fa un po' più fatica. Però comunque sia a me è parso un buon terzino che faceva comunque dei buoni recuperi in difesa grazie alla sua velocità. Poi difensore centrale di destra ha utilizzato Marcano. Eccolo qui. Che mi è parso un ottimo giocatore. Mi ha fatto anche un gol su calcio d'angolo. Infatti lui è molto alto quindi molto pericoloso su corner. Non è velocissimo. Comunque ha una discreta velocità. Comunque valori di difesa e fisico molto molto buoni. E prezzo relativamente basso. Poi il suo compagno di reparto invece ha utilizzato Nacho Fernandez del Real Madrid. Che al contrario è più veloce di Marcano. E comunque le statistiche di difesa e fisico sono simili. Lui però un po' più basso. Quindi ecco fa un po' più fatica a colpire di testa. In ogni caso mi è perso un buon giocatore senza ombra di dubbio. Invece sono rimasto un po' deluso dal terzino di sinistra che è Oro. Ed è Fabio Cointrao che in realtà è un buon terzino. Comunque ha delle buone statistiche. E il problema di questo giocatore è il suo due stelle piede debole. Se provate a fare un passaggio di destro lo sbaglia quasi sicuramente. E quindi questa è un po' la sua cosa negativa. In ogni caso mi ha fatto anche un gol su un tiro dalla distanza dopo il calcio d'angolo. Comunque sia un buon tiratore anche se ha 65 di tiro. Comunque è abbastanza buono. Mi sono stupito. Pensavo avesse più velocità di 80 invece mi ritrovo questo 80. Però comunque sia è tutto sommato un buon terzino. Non il migliore sicuramente. Centrocampo troviamo uno dei miei a destra, uno dei miei preferiti. Cioè Melo che da CDC a CC secondo me diventa un mostro. Io l'ho utilizzato sempre da CDC quest'anno o quasi sempre con 6 gol in 9 partite per un centrocampista centrale. È veramente una follia. Cioè tantissimo. È un centrocampista completissimo. Lui ha velocità, dribbling, ha un ottimo tiro soprattutto dalla distanza. Un buon passaggio da cui derivano comunque due assist. È molto forte in difesa soprattutto di fisico. Non lo spostate mai. Ed è sempre in posizione pronto per fare gol o comunque tirare dalla distanza. Provatelo. Non ve ne pentirete perché fa veramente la differenza. Mentre in mezzo proprio troviamo un altro giocatore del Galatasaray. Cioè Zemaili. Che a me è sempre piaciuto a Zemaili per il suo tiro dalla distanza. Che ha valori assurdi. Anche di potenza tiro. L'unico suo problema è la finalizzazione. Che non è molto alta e quindi per forza di cose delle volte sbaglia i tiri e non fa gol. Però comunque sì ha un gol in quattro partite per un centrocampista centrale. È tanto. È buono. Considerate ecco che non sono vere quattro partite. Ma contatene solamente tre. Perché in una missi è disconnesso. Ovviamente i server bellissimi di questo gioco dopo pochissimi minuti. Invece a centrocampo a sinistra troviamo un altro giocatore oro. Che è non raro. Quindi adesso vediamo di trovarlo al più presto. Meirelesch. Eccolo qui. Del Fenerbace. Buon giocatore. Meno veloce rispetto agli altri due cc. Però comunque sì ha un ottimo passaggio. Un gran tiro. Quattro stelle e piede debole. Comunque buoni valori. Diciamo abbastanza bilanciata. Ecco come carta. Mi è piaciuto abbastanza. E poi costa poco. Vabbè qui è primo proprietario. Però costa poco. Mentre andiamo con l'attacco. E qui c'è veramente da parlarne molto. Cioè allora. La TD è argento. E sto parlando di Steffen. Che è questo giocatore che in realtà era un bronzo scarsissimo. Hanno upgradato a gennaio. Diventando questo 71 con statistiche. Andatevele a vedere su Futed. Che fanno paura. Soprattutto equilibrio, agilità se non sbaglio. E potenza tiro. Sono veramente assurde. E devo dire che è un ottimo giocatore. Con una buona velocità. Discreta velocità. Un buon dribbling. Peccato che è normale normale di Warcrate. Se avesse alto di attacco sarebbe ancora più forte. Davvero un ottimo tiro. Un ottimo finalizzatore. Di sinistro. E sostanzialmente basta. Ecco l'unica cosa negativa di questo giocatore. Oltre a Warcrate. È la sua fisicità. Lui è molto basso come giocatore. Per cui appena va in contrasto. Probabilmente la perde. Però comunque sia. Provatelo. Perché mi è piaciuto davvero tanto utilizzarlo. A sinistra troviamo un TS Or. Cioè Musasou. Che ho voluto provare. Visto che non l'avevo ancora provato. E devo dire che è un ottimo giocatore. In tre partite. Ripeto non sono quattro. Ma tre. Un gol e tre assist sono tanti. Cioè van bene. Secondo me vanno abbastanza bene. E devo dire che è molto fisico. Come giocatore. Buona velocità. Ottimo tiro davvero. Finalizzatore provetto. E anche un discreto passaggio. Ma andiamo a ciò che tutti stavamo aspettando. Cioè il Silver Ibrahimovic. Che è argento. E vi sto parlando di Gernth. Che è questo giocatore dello Young Boys. Che mi ha ricordato abbastanza Ibra. Per il semplice motivo che è un attaccante. Che può fare innanzitutto tutti i ruoli d'attacco. Perché lui è uscito come COC. Ha una discreta velocità. Anche Ibra non è velocissimo. E ha un tiro veramente strepitoso. Anche se lui è mancino. Vabbè cambia poco. Ha un tiro veramente strepitoso. Soprattutto il tiro dalla distanza. Mi ha fatto tre gol in tre partite. Ripeto non sono quattro ma tre. E costa veramente poco per essere un giocatore IF. Con queste statistiche. Quindi vi consiglio di provarlo. Perché non ve ne pentirete. Poi vabbè. Assomiglia a Ibra. Perché anche lui è svedese. E vabbè. Non è come dire. Non ha le stesse caratteristiche per dire di dribbling. Quindi stelle abilità o fisico della Madonna. Anche se comunque è alto 1,85. Però comunque secondo me si avvicina molto a quello che è Ibra. Molti si aspettavano probabilmente Poulsen dell'Ipsia se non sbaglio. Però devo dire che anche con lui mi sono trovato veramente bene. Tranquillamente. Quindi raga questa è la squadra. Fatevi un po' i calcoli per capire un po' quanto costa. Ma comunque neanche tanto. Vi invito come sempre a lasciare un bel like. 300 mi piace uscirà un nuovo video. Fatemi sapere nei commenti quali altri giocatori volete che io vi porti nei prossimi squadbuilder. Molti mi hanno chiesto il Silver Neymar. Quindi probabilmente vi potrò portare lui. Se avete consigli comunque fatelo nei commenti. Iscrivetevi al mio canale. Pagina Facebook, Twitter, Instagram. Tutti i link come sempre li trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga. Ciao. 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 Ciao